Non so che mi ami, non so Sì Provare a schiacciare ancora e fare la pausa Dai che rischia Scammer Smith, qui Siamo arrivati in questa Chepard Bush road Siamo arrivati qui Scammer Smith, questa è King Street Siamo arrivati in questo modo Sì, in fronte del town hall Sì, in fronte del town hall Sì, è una grande partita Tutta questa area è una partita Ok, non siamo arrivati al town hall Siamo in fronte Un'occhiare con una barata di parking Un'occhiare Un'occhiare All'arriente So, take care Gabriela You go now with them and we go with us Ok So, I see you there? So, I can read you Yeah She's supposed to write us to you All right You are clean Remember Andy clean Remember Andy clean This is this black jacket here Sì Smile Ok Non vuoi che si è avuto So, è una cosa riuscita di 10 anni 10 anni, sì Ok, we have to Ok, oh, wait, here No, 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 no No, no, no Ok, non fargliere il camera, please Yeah Ok Ok, so, we're going to Yeah So, we're going to Yeah We all do it Sì, questo? Sì, questo? Sì, questo? Sì, vediamo in un minuto Gabriele? Bellissimo Gabriele? Escivi la testa fuori Gabriele escivi la testa fuori Gabriele escivi fuori Gabriele esci fuori Gabriele escivi Sì 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 Buongiorno a tutti Grazie a tutti. 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 Is that good? 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 Excuse me, this is not a comic. Yeah? 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 Yeah, 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 both of you. Wait, just wait for this one. Yeah? Well, I have to sign? Yeah? Yeah. Yeah? Yeah? Yeah. Yeah, I know, right? Yeah, I know, right? All right? All right? What? Who wants to drive? Who wants to drive? Yeah? All right, who wants ride? grazie